Oggi Feiscop è ospite a Caraglio del comune, in particolare del sindaco Giorgio Lerda, con cui andiamo un po' a rispolverare quello che è l'esigenza proprio di questo serbatoio di meraviglie. Siamo tra vallate splendide, quindi anche dal punto di vista turistico una grande ricchezza e poi qui abbiamo davvero un gioiello, che è la cooperazione, perché c'è un grande associazionismo sul territorio e poi abbiamo il tessitoio più antico del Piemonte, giusto? Allora sindaco, che cosa chiediamo come Caraglio alla cooperazione cuneese? Noi abbiamo tanti progetti, ma soprattutto vorremmo rilanciare il turismo a Caraglio e nella nostra valle, che ha un momento di decadenza, data anche la crisi economica, però siamo convinti che dobbiamo lavorare per rilanciare i nostri territori che sono, come diceva lei, splendidi e abbiamo delle ricchezze sul territorio da poter far apprezzare e da poter far visitare. Tant'è che a settembre abbiamo inaugurato, grazie alla collaborazione con la Banca di Caraglio, che è una banca della cooperazione, che ci ha messo a disposizione i locali, abbiamo inaugurato l'ufficio turistico, che vuole essere veramente un punto di riferimento per tutte le attività del territorio. Quindi alla cooperazione chiediamo un aiuto in questo senso, dobbiamo programmare qualcosa per riuscire a rilanciare i nostri territori. Per l'eccellenza della quale mi accennava il più importante certificio piemontese, il filatoio rosso, recentemente ristrutturato, che può diventare veramente un fiore all'occhiello di questo percorso turistico che dobbiamo andare a costruire. Quindi proprio sul filatoio rosso si può costruire un pochino l'immagine di questo progetto di riscoperta di quella che è una grande ricchezza di Caraglio. Dicevamo prima che Caraglio è conosciuto anche nel nord Italia proprio grazie a questo edificio che è un pochino simbolico e anche un'importanza come bene culturale perché è stato totalmente ristrutturato. Le varie amministrazioni che si sono seguite a Caraglio negli ultimi anni hanno puntato essenzialmente su due settori. Uno, rivalutare le nostre bellezze storiche e la più importante è naturalmente il filatoio rosso. Sono stati spesi circa 10 milioni di euro per il recupero totale e per la creazione del museo del settificio piemontese. La seconda parte sulla quale si è puntato parecchio è sull'enogastronomia. Abbiamo tanti prodotti di eccellenza sul territorio, vedi l'aglio, vedi il barbarià che sta nascendo, vedi la mozzarella di bufola. Secondo me l'evento culturale e l'evento enogastronomico messi insieme possono creare un percorso veramente interessante per tanti turisti che speriamo di poter far arrivare nei nostri territori. Quindi un nuovo percorso da raccontare, da filare un po' come la seta. Quindi questa è la sfida che lanciamo al mondo della cooperazione. Abbiamo visto che la banca di Caraglio, la BCC locale è già molto presente, ha già fatto il primo passo, bisogna continuare. Grazie al Sindaco e al Comune di Caraglio. Grazie a voi. Vorrei veramente fare un ringraziamento alla banca di Caraglio che è veramente di sostegno per i nostri territori e naturalmente non si tirerà indietro nemmeno in questa occasione. Grazie a voi.